ciao ragazzi ciao a tutti sono Zepp89 e sto per intraprendere una nuova fresca avventura su quale gioco? Isolation! c'è questa gemma questo capolavoro incompreso stava prendendo polvere nella mia libreria di steam è una cosa triste no? iniziamo la nostra avvenzura vai made with unity questo gioco sarà gradevole quanto radersi con una pietra e i coglioni per terra cascheranno chiede in ginocchio signore mio fai sparire dalla faccia della terra questo abominio di videogioco caricamento in corso sii paziente per favore no ti sembra una persona paziente ti sembra una persona ragionevole no tutt'altro io voglio giocare semplice cos'è dove siamo siamo in un ospedale a quanto pare a giudicare dai letti da da tutto quanto oddio ma che è il muro è un foglio di carta è un foglio di carta c'è qua 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 posso vedere proprio dentro il muro non c'è non ha spessore madonna madonna cominciamo in modo bellissimo eccola qua la torcia va subito eh le file cos'è ah hai trovato fotocamera digitale ecco mamma mia quanto tempo per accendere spegnere mamma che roba da matti oddio tre ore per spegnere accenda mano lenta insomma animazioni si atmosferiche ma altrettanto pallose allora invece la fotocamera come si fa sa che ah eccoci qua si ma le ore per metterla e levarla ma che serve rimettiamo la torcia che altrimenti non vedo nulla insomma ragazzi già da adesso il gioco si preannuncia un'esperienza proprio da non perdere intensa davvero no la merda immobile sull'autostrada stava e lo spazzino lo spazzava ma era immobile non c'era proprio verso e allora rimase lì rimase lì rimase lì e allora rimase lì la porta è bloccata oddio le tre si intersecano male ma perchè eh si mi sto già rompendo le palle si si capisce uu cadavere quello è che ha pallaria sembra gollum non mi dire che si sta già scaricando la pila oh mio dio eh si come potete vedere in alto a sinistra è proprio così eh non devo perdere tempo aspetta vedere se magari c'è qualche chiave qua da raccogliere qualcosa no soltanto una fila di sedie qua accendi pochissima luce qua eh bene una pila paper mmm stavamo insegnando al nostro staff medico informazioni circa la piaga e le precauzioni da prendere per cosa? per non infettarsi forse? ah ho capito originalissimo la piaga che trasforma in zombie ovviamente mai vista una trama del genere davvero davvero complimenti ma andiamo avanti vediamo di non perdere tempo anche perchè le batterie sono quelle che sono eh dai ma come faccio a ricaricare la pila? pa 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 ecco siamo arrivati alla porta chiusa pa 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 oh dov'è la chiave? ahi prendiamo da bere non posso peccato volevo una lemon soda ma Niente da fare a quanto pare ma mi stai prendendo per il culo? ogni volta che inserisco una batteria si carica di una sola tacca cioè non è che si ripiene ogni cosa no una tacca sola roba da matti ma dov'è la chiave devo guardare ho vista nel buio Così proprio Alla cieca Sembra così sgradevole Non hai più batterie Ma è un cazzo dura Ma è possibile che questo gioco pretenda Che io trovi tutto nel becco di un secondo Ma qui direi che Si fa presto a tirare le somme È un gioco di merda Ma davvero Ma sta torcia dura quasi meno di quella di Dead by Daylight Ma se andiamo a scherzare Ma dammi un po' di tempo Il posto non è che sia minuscolo Devi andare in giro a cercare come fai Qui l'unico modo per farcela È sapere in anticipo dove sta la roba Ecco Adesso cominciamo un pochino a ragionare Il problema è la batteria Il problema è la batteria Guarda devo fare in fretta Guarda bene Veloce veloce Cos'è? No una cazzata No non serve a un cazzo Lascia perdere Qua non c'è Dentro il cesso c'è No non c'è Ok Quindi qua non c'è nulla di interessante D'accordo Andiamo avanti Veloce E dai madonna Sta corsa di merda Esiste solo per darti noia Già le pile non durano Poi mi metti pure la stamina Ecco Che è successo? Scaduto? No Ma come? Non posso più usare il viso in notturno Pezzo di merda Allora qua Vicino al cadavere Ho visto bene prima La chiave non c'è Ok E madonna però Non dura nulla Ah l'ho visto solo ora Viene indicato da quel rettangolino in alto Vedi? Ho capito ma qua la chiave non c'è Io non so dove andare a rovistare Non ho proprio idea Eh vaffanculo va Deve per forza essere o sopra un mobile O dentro qualcosa Non c'è Basta Non c'è Non sembra esserci Rovistando Rovistando Questo gioco mi starebbe proprio spallando Ragazzi non riesco Non riesco Cioè torcia Levala torcia figlio di puttana Levala Madonna guarda Sto gioco chiacchierato Fatto ma Dove la chiave No eh Non si apre Non si apre Schifoso che non è altro No 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 Non si apre No perché qui dici Che col tasto destro del mouse Puoi interagire con gli oggetti Ma così non è perché Inventary Non inventory Mamma mia Proprio un alfabeta Inventary Inventary Ma cosa inventi? Un gioco di merda come questo Inventi Non posso usare questo Non posso usare quello Qui ci sarebbe da usare una cosa sola Alta F4 Ecco Quello Ci sarebbe da usare ora Invece guarda Sta porta di merda Non si può Non c'è niente Qua Qua E posso perlustrare ogni singola mattonella E non trovare questa chiave Un gioco creato da Casimiro Grumaioli Ma posso accendere questo Per dire Questo niente Non si può fare un cazzo Non c'è la chiave Non c'è da nessuna parte No ma 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 Non c'è proprio un bolo In modo di andare avanti Che cazzo devo fare Crediti Contatti YouTube Interactive Gaming Stiduios Stiduios Oddio Era lì Era lì tutto il tempo E non lo vedevo Finalmente forse Riuscirò ad aprire questa porta Vai Ora qui cosa c'è Tiriamo fuori di nuovo la torcia ma Cosa c'è qui E quindi Flight 229 Clear for take off Questo dovrebbe significare Solo quello dice Che dice altro La scritta che va fuori dal foglio Ma stiamo scherzando No c'è da imbalsamarsi le palle Niente Fa tutto il giro delle stanze Guardare attentamente Se c'è una chiave marrone In ogni angolo Ma che gioco è Dov'è Perché Un gioco tra l'altro Da 3 euro Vi sembra un gioco da 3 euro A me mi sembra un gioco da 0 euro Oh Menomale va Ci ho messo un po' Ma non troppissimo Stavolta Diciamo che mi sto abituando Un pochino Alla bastardaggine Del posizionamento Degli oggetti In questo cazzo di gioco Quindi ora Apri Madonna non carica Dai Apri Oh Bene Oh livello 2 Caspita Esiste un secondo livello Oddio Deformato come pochi Qui Oddio Stavolta l'ho trovata al volo Bene Bene Proprio al volo Instant Proprio come piace a me Vai Ah non è quella Ah C'è se proprio Ad aprire la porta a destra Non si apre Quella a sinistra Si C'è roba da Ah Che Ma riprendimi le mele Un'altra chiave ancora Ma è tutto C'è questo gioco È tutto identico Fino a se stesso C'è apri una porta Per trovare un'altra porta E aprire un'altra porta ancora C'è questo è il gioco Veramente Veramente Azzeccato Oddio Lì si esce Tiravento forte Ma forte proprio L'erba billboard Un classico Ma serve uscire qui? Serve a qualcosa? Ehm Aiuto Aiuto Ma buttati Di sozzo E sgraventati Nel pozzo E stai tranquillo Che Ai nessuno Frega un cesso Ma Oddio Ah non posso qua Aaaaaa Dio Aia Aia Così 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 Ecco E ora Non c'è più niente da fare Per rimediare a questa situazione Ho fatto la fine Di Piermentis Frascellozzi Senti Vaffan curva Considerevolmente Tragico Per un gioco Da 3 euro Ma non è finita Qui per oggi Perché dobbiamo ancora Far visita Ad un altro ospedale Quello di Horror Hospital Questo gioco Probabilmente Farà di molto Cagare Allora Se è pieno Di disperazione Tu Morirai Concentrati Sull'obiettivo Devo raccogliere 8 immagini De què Di su nonna E poi Che altro c'è Questa chiave Ti consentirà Di utilizzare gli oggetti che troverai vabbè sti cazzi iniziamo ma che voce è? questa voce mi ricorda un canale morente no non si può nemmeno schippare mamma mia che paura che ansia sembra una risata della bambina del livello dei cosi dei vampiri di medieval chi è? chi va là? chi va là? drogato auto lesionista chi è? mamma mia la sensibilità è davvero proprio totalmente ai maiali ma totalmente ten 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 se c'è io per cosa? non puoi neanche mettere il gioco in pausa per cambiare la sensibilità che devi ricominciare il livello da capo che cosa gradevole, bella, fragrante no? questo signore non sembra essere disposto ad aiutarmi va bene ce la farò con o senza il tuo aiuto stanne pur certo ma ti piace un debito ma qua come uscilla la camminata la visuale ma è nauseabondo cos'è? chi è? c'è qualche problemino tecnico questa scienziaria ragazzi mi ricorda quello del mio condiminio che c'ha sempre bene o male un problema proprio sempre un giorno sì un giorno no 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 non succede nulla lo stesso identico tizio di prima coppia incolla ma come mai posso interagire con i cadaveri? a che serve? c'è primo e c'è tipo un cerchietto che sei piena a che serve? c'è non ti viene spi... che cazzo è sto rumore ma che è sto ticchiettivo quando corro? ma non ha senso o no? sembra di no qua clicco al tab al gioco al tab un altro sono riuscito a trovare un altro gioco che sia al tab qua di nuovo ma come le fanno i giochi con unity con i sandali tanzanelli delle chiappe qua questo tutto rotto con le ombre fatte ma perché? qui c'è qualcuno ai 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 signora mia una signora di sgradevole aspetto ma che ci devo madonna tabbammi un'altra volta e ti mangio vivo madonna ma basta non posso neanche cliccare siamo arrivati a quei livelli ma io vorrei capire una cosa quando premo E sui cadaveri appare il cerchietto che si piena cos'è che accade? sono necrofilo? li stupro? cosa accade? a che cosa serve? no perché sto sempre 0 su 8 poi c'è questa barra disperazione che è già a metà non può essere un buon segno qui c'è un bagno bene aah niente un'altra ancora aah mi aggiungo ma che è lo zio fester? ma che succede? ah non sono morto sono ancora vivo io sono ancora qua e vaffanculo a tutti voi qua cosa c'è? libro ok abbiamo preso un libro leggiamolo dai questa è la bibbia utilizza non posso utilizzare questo libro almeno non al momento facciamoci una doccia ah no non posso saltare giusto io mi sono rotto i coglioni qua ma io non capisco il cadavere in piedi cioè questo non capisco io un conto è sdraiato sul lettino già si capisce ma in piedi un cadavere ma secondo voi può avere senso una cosa simile anti output cosa? io non so più che fare e dai pezzo di merda che non sei altro come cazzo fanno a farli così? cioè io non so può essere il fatto che ho due monitor perché il cursore quando giro verso destra scappa fuori un altro monitor e se clicco al tab cioè questi non hanno manco due monitor capito il problema qual è? secondo me poi ecco madonna ingiocabile ingiocabile totalmente ingiocabile nooo ca ho premuto esche per sbagliare madonna nooo zio fester zio fester zio fester vaffanculo ahia mi si sta appienando la barra della disperazione adesso accadrà qualcosa di sgradevole ecco zan 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 e la zia fester è quello vero che è successo? sei morto che viva uh ma così piccole le foto ma che è sta tizia? oh nell'angolo nell'angolo malapena visibile uscene uno qua niente 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 ma che cazzo fatto male qua qua il poligono che manca ma qui c'è qualco oddio nel cesso spera qua si sale interessante c'era un pezzo si si brava caccia le mosche che ogni tanto si ripresentano ma buttati des non posso muro invisibile aspetta ma qui ci sono altri libri non è che oddio devi eh vedi perché infatti mi sembrava strano che ci fossero altri libri identici quello che avevo raccolto si qualcosa si è aperto qualcosa si è aperto da qualche parte ma non so cosa e non so dove aperta è aperta cosa è sta roba me la ecco ecco dove era una come la chiave ma non si vedeva nulla oh cristo si me la chiave per aprir cosa ma basta sto al tab cos'è che si è aperto ok ma ha usato la chiave security card pensavo fosse una foto ancora basta ok ho capito ho capito da fammi giocare le fiamo uscita le pene qui è stata usata da qualche parte quella scheda no non funziona un cazzo non so che fare sta per scadere il tempo la barra è quasi piena merdinski merdonski dove cazzo devo andare credo credo qui no vedi uh era qui era qui porca puttana muovi il culo oddio ma come respira questo sta proprio letteralmente morendo oddio che ca... si è poligono che trapassa muoviti veloce dove siamo comunque sia un brutto posto dammi un po' di tempo conficcato ma per perchè dentro si impegnano a farli brutti sti giochi si impegnano si denota un certo impegno password no no ma che ne so io di una parte cosa ne devo sapere io no sa che non è giusto pietro is not the password madonna ma che ne so cioè ti chiede ma ci deve essere un indizio un indizio a che parte dai qua non è che c'è un numero no 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 si ma non so proprio che come si fa come si fa andare avanti qui niente non so dove dover reperire questi codici non è che devo leggere quel libro solo che non puoi leggerlo non ha senso non ha un fottuto senso merda no mi arrendo dai dove era il codice? dove era? se qualcuno di voi lo sa lo scrivesse nei commenti comunque com'è che si dice non c'è due senza tre è la volta di seitanist mi sono addormentato di nuovo dove siamo? col portatile brutto della dell il caffè meno brutto invece non posso saltare però mi posso abbassare quindi sti giochi sono davvero utili quanto uno shuriken tra le chiappe e sono abbastanza sicuro che questo gioco non sarà d'eccezione neurologia bagno non è possibile aprire le porte sono lì soltanto per bellezza per estetica che ca... what the hell? signori sono partite delle luci chi è che si... aia ho ricevuto un cazzotto dove sono? no mi hanno rapito cosa volete? soldi? vabbè almeno in questo gioco accade qualcosa almeno direi un urlo come minimo un teschio oddio no è in galera dritto dritto è in galera però almeno un cuscino me l'hanno lasciato cos'è? che devo fare? che de... non c'è nulla da fare sono qua chiuso in galera non sembra esserci via d'uscita non sembra che io possa interagire con nulla né col teschio né con questo affare la porta nemmeno ah si? eh si invece eh ragazzi la prossima volta magari chiudete la porta eh i detenuti altrimenti potrebbero evadere come ho fatto io ora proprio della serie libero di provare al tuo fortuito rischio e pericolo d'accordo sfida accettata vediamo cosa c'è qua giù what's going on in here? proprio la parte inferiore del corpo della serie il culo lo metto io mancherebbe una traccia musicale d'effetto qui però eh se devo dirla tutta how I got here at all in inglese è così così eh il culo lo metto io il culo lo metto io al resto ci pensi tu ma il culo lo metto io e nessun altro allora qua ahia qualcuno ha rotto un bicchiere sono partite le luci qui benvenuto all'inferno prego è permesso? non c'è niente lì bel libro sembra interessante ovviamente al contrario la croce give him your soul dagli la tua anima col cazzo vieni a prenderla pezzente vieni a prenderla la mia anima se ci riesci ahia che è? lui è il libero chi? l'uomo nero cos'è una cartuccia? ah no sembra una batteria potrebbe essere utile una raccolta interessante ragazzi riuscirò a finire almeno uno di questi giochi ma sono davvero così impossibili certavolta si perchè sono fatti talmente male che spesso non hai molta scelta però oh proviamo a impegnarci dai se mi ha dato una pila significa che la torcia non dovrebbe cos'è una sgommata di mmm non sa proprio di si eh c'è proprio il culo raschiato contro il muro dalla serie cartigenica dov'è? e allora uso il muro in segno di protesta perchè la cartigenica io non la trovo e io uso il muro insomma è qua no ma perchè c'è il lucchetto per quello ovvio che non si apre aspera qua non ci sono stato prima eh vedi vedi bisogna guardare bene ah vedi vedi sapere bene ah ma io ho la batteria quindi come faccio ora si ok ma io la batteria l'ho raccolta prima perchè non posso equipaggiare niente perchè non posso? non mi dire che si è buggato no eh no eh no eh dai cioè se tu raccogli prima la batteria e dopo la torcia non puoi usarla ma serio? non è che mi prendi per il culo sai no lo vedi che cosa succede a fare i furbi? eh? sto sgocciolando ma guarda sgocciola sto gioco è diversamente bello vedo un cazzo dove sono? no no ma da ma vaffanculo vai che entri in un angolino buio e non ne esci più perchè la pila non si attiva la torcia no eppure c'erano tutti oggetti necessari senti ricominciavo da capo va uuuu non ne faccio più dobbiamo cominciare tutto da capo dai guarda il teschio del neandertham vai prendiamo la torcia ok non ci sono batterie fin qui ci siamo adesso è detto la batteria è qui raccogliamo la batteria no non funziona lo stesso non funziona che devo fare? oddio oddio stava un'altra pila oddio era lì era lì sul bordo a vederlo prima qua c'è non l'avevo proprio visto prima mi sa che prima l'avevo aperto per sbaglio mi ero infilato qui senza neanche saperlo devo salire ai piani superiori i piani alti del demonio vediamo cosa c'è qui troverai la risposta alla tua domanda only about ritual sacrifice soltanto circa i rituali di sacrificio ah ma qui aspetta usce un cadavere posso interagire? eh ma il codice adesso scoppia tutto eh no il codice non lo so il codice non ce l'ho non possiamo aprire questa misteriosa porta di ferro peccato ma torneremo ragazzi torneremo c'è questo liquido strano piscio se per qualche motivo l'ultimo cesso non si apre bah senti andiamocene non credo sia importante noi ti osserviamo e osserva ste chiappe allora vedi quanto me ne fregamme a 18 a 18 si apre strano un manichino un pezzo di manichino una scala niente di che niente di che oddio qualcuno qui si è divertito con il culo alla faccia del bidello alla faccia del bidello not work not work not work bagno delle donne ehm il culo lo metto io it says a 20.. cosa dice a 21 quindi ragazzi in qualche maniera la stanza a 21 ci deve interessare a 21 e si apre a 21 bè qualcuno gli ha sottratto il cuore ma non a lui no è un cuore di qualcun altro vabbè ho disparito il cadavere e ha lasciato la chiave meno male che l'ho vista meno male che l'ho vista quella chiave a 15 ai 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 dobbiamo trovare la porta a 15 allora uuhu zanzanzanzan eccoci uuhu zio queste quindi sono le vittime del nostro psicopatico di turno si ma sta stanza serve a qualcosa o no? ci può essere qualche oggetto si ma guarda bene bene si ma guarda i dettagli c'è l'anello l'anello di team fortress gli ho rubato l'anello no? cosa cazzo? nasconditi pezzo di merda oddio oddio ma sono dentro il tavolo ma chi è? oddio che cippo mi sa che è quello il serial killer che ha fatto fuori tutti sono andato posso uscire senza che mi faccia nasconditi? proviamo vedete se sposto la cam è appazzo ed è rimasto il punto esclamativo giallo anche se diventa rosso e mi vence no da capo almeno inizio da qui vedo qualcosa di rosso là in fondo andiamo a vedere cos'è un attimo controllo queste serrature sembra essere tutto chiuso tutto chiuso se si va tutto chiuso tutto chiuso rigorosamente ah ci devi infilare l'anello meno male che l'ho visto prima che l'ho raccolto ah è bene stiamo facendo un po' di progressi potrebbe ripresentarsi il brutto signore entro poco allora qui c'è tipo del materiale radioattivo sembra non esserci nulla di corretto in che senso vedete come li traducono questi giochi letteralmente ma che capelli c'ha di plastica ragazzi qui non c'è niente e non vedo niente ora madonna che pazienza bisogna avere una certa voglia per giocare a questi giochi bisogna avere una certa voglia per andare avanti in questi giochi ve lo dico va vede qui porca puttana dell'eva e da qui vaffanculo va ha sfondato una porta dai ha schiacciato un pomodoro sui piedi il rito il rito satanico oddio c'è un codice sarà il codice della porta deve essere questo spero fammi scrivere non mi uccidere mentre scrivo no non è giù stavo ovviamente il filo di puttana doveva per forza interrompermi mentre scrivevo non venire qua non venire ti scimetti proprio di impegno beh ti fa onore lotti per la tua causa almeno non ti si può dire diversamente dove era la scritta bene ora lo scrivo mentre è in pausa schifoso questa è la mia chiave fuori da questo inferno porco 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 infame porco porco infame porco ah ti perde di vista dopo un po' bello bene 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 ottimo ottimo proprio cosa ma che c***o dio mio faccia di culo che non sei altro ma aspetta mi fai vedere una cosa oddio posso ancora interagire anche da morto oddio ho aperto la porta ma siccome sei no 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 devi ricominciare da capo per forza ma dai non è giusto è punto esclamativa da giallo è pure sto pezzo di no 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 pietro scusi i will cut you into pieces you piece of shit no volevo fare rialzi i vozi non puoi rigirarlo non è mica una frittata ozio osborne in mutande vaffanculo oddio forse qui dai 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 la sgommata si sempre avanti sempre avanti sempre avanti non mi dire che mi sta seguendo dimmi che non mi sta seguendo dimmi che non è dietro il mio culo in questo istante dimmi che non appare ora ma ora non appare ora non è che eh 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 no oddio ancora aperto siccome aveva aperto dal morto allora ora è aperto è rimasta appare dal nulla appare dall'aria dal niente non di qua non di qua ah la vedi no no eh no eh io vedo il caso non devo fermarmi ora assolutamente la porta è già aperta corri via rat it's time to die no no oh oddio sei ancora vivo sono ancora vivo non ce l'aveva fatta in te padonna pensavo di essere no no non ce l'aveva fatta però ci è mancato veramente un pelo eh sicurezza carabinieri aiuto carabinieri aiuto niente che devo fare no dove caspita devo andare vediamoci di torno e non si apre ma non è che ecco ecco l'avevo sospettato guarda se non è questa davvero fermati non sono le stesse chiavi no non posso muovermi non lezzo è scompar- era tutto un era tutto un sogno no evidentemente no 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 game over questa pesa questa pesa questa pesa ma assai davvero agghiaccianti questi giochi ma per tutti i motivi sbagliati questo per ora è tutto noi ci becchiamo come sempre al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti